Ciao a tutti, prepariamo oggi delle meravigliose linguine con pesce spada e pomodorini, procediamo! Iniziamo tagliando finemente uno spicchietto d'aglio, tagliato l'aglio, tagliamo finemente anche un po' di prezzemolo, ci spostiamo in padella dove metto dell'olio extravergine d'oliva e lascio dorare l'aglio per qualche minuto a fiamma molto bassa. Ho già lavato il pesce spada, ora comunque vado a pulirlo, pulito per bene il pesce spada, prima di tagliarlo a cubetti lo battiamo un po' con un batticarne, iniziamo a tagliarlo a cubetti piccoli, tagliato a cubetti il pesce spada lo mettiamo un'altra volta in una scuola pasta e lo passiamo sotto acqua corrente fredda. Dorato l'aglio, aggiungiamo il pesce spada e lo facciamo cuocere per 3-4 minuti a fiamma media. Nel frattempo ne approfitto per spezzettarmi a mano le olive nere. Passati 4-5 minuti, alzo la fiamma e sfumo con una tazzina di vino bianco secco. Lascio a fiamma alta, evaporare il vino velocemente. Evaporato il vino, abbassiamo la fiamma e andiamo a rimuovere momentaneamente il pesce spada. Aggiungiamo solo dell'olio extravergine di oliva, mettiamo uno spicchio d'aglio, i capperi, le olive e due alici sotto olio e lasciamo rosolare il tutto per un paio di minuti a fiamma bassa. Passato qualche minuto, se preferite potete spezzettare così con il cucchiaio di legno, l'acciuga e i capperi, andiamo a mettere i pomodorini in scatola oppure a questo punto i pomodorini freschi. Messi i pomodorini li facciamo cuocere per una decina di minuti a fiamma dolce e volendo possiamo, come vi dico sempre, romperli con un cucchiaio di legno o con una forchetta, se lo fate con la forchetta fate attenzione a non rovinare la padella. L'acqua bolle possiamo mettere le linguine, quando mancano due minuti alla fine della cottura della pasta, mettiamo il pesce spada in padella insieme al pomodoro e al resto del condimento. Quando la pasta sarà bene al dente abbassiamo la fiamma sotto la padella e mettiamo la pasta, lasciandola così mescolando per bene insaporire. mescoliamo per qualche minuto, aggiungiamo un po' di pressamolo fresco, continuiamo a mescolare, per ogni eventualità da parte lasciatevi sempre un po' di acqua di cottura della pasta. Aggiungo adesso un filo di olio extravergine a crudo, ultima mescolata e vado ad impiattare. Ecco qua, ho appena impiattato, aggiungo un po' di peperoncino piccante e assaggio con voi. Questo piatto è davvero davvero delizioso, provare per credere, 20 minuti per farlo, quindi niente scusa perché è semplicissimo. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!